Un momento di riflessione per discutere e approfondire il tema del turismo religioso nel Salento, un segmento che a differenza di quello balneare o culturale, stenta ancora molto ad affermarsi. L'incontro si è tenuto a Calimera nell'ambito del progetto PIL Tour organizzato dal comune della Grecia Salentina e alle municipalità greche di Nezovo e Poponi con l'Agenzia pubblica per la cultura della municipalità di Ioannina Capofila. Una location non casuale, visto che l'eredità bizantina e ottomana del passato rappresenta un importante bagaglio artistico e culturale, nonché un enorme potenziale in termini di sfruttamento turistico, se inserita all'interno di una strategia di sviluppo coerente e sostenibile, finora però sempre venuta meno. Da qui l'importanza di avviare un piano d'azione comune per elaborare un nuovo modello di turismo che non sia affatto solo di mare, sole, cibo e monumenti. Un turismo alternativo per un modello che in altre parti del nord Italia già da tempo è stato messo in atto. Bisogna partire da una catalogazione dei beni culturali, saperli valorizzare e saperli chiaramente poi pubblicizzare lungo la costa o per quanto concerne Lecce, in modo tale da poter attirare flussi turistici che arrivano qui da noi per altri motivi.